Sono quasi tutti occupati, posti letto attivati in questa prima fase dell'emergenza al polo Covid di Scafati. 11 i pazienti non bisognosi di terapia intensiva che risultavano trasferiti fino a ieri pomeriggio nel reparto di pneumologia. Altre 9 richieste di trasferimenti sono pervenute in serata dagli ospedali della provincia e dall'area vesuviana. Richieste che sono state accolte solo in parte. Diventa quindi prioritario attivare gli altri 10 posti letto già predisposti sempre al terzo piano del Mauro Scarlato. Tali postazioni saranno disponibili non appena sarà reclutato nuovo personale. Il professore Mario Polverino, commissario ASL per l'emergenza coronavirus e referente per il Covid di Scafati, ha sollecitato più volte la direzione aziendale a reperire altri medici ed infermieri anche per garantire un ricambio al personale sanitario già impegnato al terzo piano del Mauro Scarlato dallo scorso giovedì, che inizia a mostrare segnali di stanchezza. Il direttore sanitario del DEA di Nocera, Pagani Scafati, Maurizio Maria D'Ambrosio, assicura intanto che entro la prossima settimana saranno pronti anche i 16 posti letto nel vecchio reparto di lungo degenza, al primo piano della struttura, dove sarà trasferito tutto il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Nocera Inferiore, diretto dal primario Mariano Corrado. A questi si aggiungeranno i 10 posti della rianimazione e successivamente gli ulteriori 14 del reparto di medicina. A Scafati intanto, dove si registra un nuovo caso, si piange la prima vittima del coronavirus, un pensionato di 84 anni, ex imprenditore molto conosciuto in città, che era risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. L'uomo era stato prima ricoverato nel reparto di malattie infettive all'Umberto I di Nocera Inferiore e poi trasferito al polo Covid-19 di Scafati in terapia intensiva respiratoria per l'aggravarsi delle sue condizioni. Non è stato questo l'unico decesso di ieri all'ospedale Mauro Scarlato. In mattinata, sempre nell'unità di terapia intensiva respiratorio, era morto anche il comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che era stato il primo paziente infetto trasferito nel riconvertito presidio scafatese.